La passalacqua cade in laguna, nello scontro diretto per il secondo posto, ed è Venezia che brilla. A due giornate dalla fine, il secondo posto matematico è delle Venete, mentre la passalacqua viene ricacciata indietro di 4 punti. La passalacqua si è battuta bene nel primo quarto, ed è poi andata man mano spegnendosi, palesando un certo affaticamento. Ndur non è la brillante trascinatrice di un mese fa, e tutte le giocatrici hanno troppi minuti sulle gambe. Non è un caso che Venezia ha costruito il suo successo non solo sulle grandi capacità tecniche e realizzatrici di Walker e Ruzikova, ma anche sulla loro forza fisica. La Slavia in particolare è stata un martello della linea dell'out ed è andata spesso alla tiro da tre. E' proprio Ruzikova nell'ultimo possesso a chiudere il primo quarto sul 20-17, dopo che Caster aveva portato le ospiti a meno uno, alla nono minuto. Il centro slovacco continua l'inerzia personale, trascinando con 10 punti in 4 minuti e 30. Venezia sulla 30-23 alla 14-30 Ragusa, che non ha subito un distacco maggiore per i tiri da tre messi a segno da Spreafica e Caster, prova a chiamare la timeout per invertire la parziale, ma a parte i due tiri liberi di Ndur, non segna più in un finale di tempo in cui le difese hanno la prevalenza sugli attacchi. L'ultimo canestro del primo tempo così è quello di Walker, su assist di Mikovic, che porta il punteggio sulla 34-25, punteggio con il quale si va negli spogliatoi. Embi prova a scuadere Ragusa in avvio di ripresa, ma le ospiti riescono a ravvicinarsi solo alla fine, sulla 36-31, al 22esimo. Venezia torna in avanti, le squadre mostrano nel frangente grande precisione di tiro, ribattendosi colpo su colpo. Poi le Venete alzano ulteriormente l'intensità difensive e allargano il margine, fino alla 55-41, al 28esimo. Non c'è storia nell'ultimo quarto, perché Venezia è in partita, come dimostrano i punti che fa da fuori aria di Dotto, William e Walker, che portano il punteggio sulla 70-53, poco dopo metà quarto. Carangelo dalla Lunetta riscrive il massimo margine sulla 78-55. Poi Embi rende la sconfitta di Ragusa menamara, proprio sulla fila della sirena. Si chiude così sull'80-61.